Che sta succedendo? Scuoli! Oh merda! Lanciamo al tre! Uno, due, tre! Prendete questa! Sì! Gran colpo! Lo Sharknado sta scomparendo! Credo che adesso... Aspetta! No! Non riesco a tenerlo, Finn! Stiamo precipitando! Trovo un atterraggio d'emergenza! Sta tranquilla! Lo ci ho fatto una volta! Qualche idea di dove siamo? Esattamente dove volevamo! Non riesco... Se lo èоже assoluto! Lo saputo tra la luce e le impressioni anche se ha il riowick.